Per quale motivo avete organizzato la cena di San Giuseppe? Qual è la grazia ricevuta? Ho avuto un intervento al cuore, prima ne ho avuto due, poi ho fatto il terzo e c'era il rischio che dovevo morire e ho fatto questa promessa. E lei è stata aiutata dalle sorelle e dai fratelli? Sì, mortissimo sono stata aiutata, con l'aiuto di tutti abbiamo affrontato questa cena. Dunque lei è molto devota? Sì, sì, mortissimo. È una tradizione che abbiamo a Gela, che è molto sentita a Gela e noi cerchiamo di non farla mai trascurare, anche se è travagliata, pesante, è troppo stressante. Però alla fine grazie a San Giuseppe abbiamo riuscito a fare questa cosa che per noi è una cosa bellissima. È una tradizione che abbiamo fatta da tanto tempo da mia mamma e mio papà. San Giuseppe, mia sorella, gli ha dato la grazia di avere questa cena fino ad oggi che lei non riusciva, non se la sentiva, non di farla, non sentiva mai di farla, di riuscirci così bene. Grazie a San Giuseppe oggi abbiamo fatto una bella cena. E ora devolverete il tutto in beneficenza. Sì, queste sì, diciamo ai bisognose, il 99% vanno ai bisognose, alcune vicine, sempre bisognose. Che vi hanno aiutato. Sì, questo ringraziamo a Dio, a mia sorella e a miei fratelli che ci hanno dato una mano, hanno collaborato. San Giuseppe mi ha dato una bella grazia. Posso sapere quale è la grazia ricevuta? Che mio figlio ha avuto un incidente e ho dovuto permettere questa cena a San Giuseppe. Suo figlio ora come sta? Beh, ringrazio a San Giuseppe che è mio figlio con me. Tanti amici, tanti parenti l'hanno aiutata. Gli amici che mi hanno aiutato, ringrazio gli amici miei e a tutti. E a San Giuseppe che mi disse questa grazia che è mio figlio con me. Avete perso anche tanto tempo per allestire la cena perché vediamo anche delle belle decorazioni. Certo, certo. Due amici miei, due donne mi hanno fatto questa cena. Le ringrazio troppo, amici e a tutti gli amici miei che mi hanno dato la spalla. Grande, 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 come San Giuseppe. E domani poi tutto sarà devoluto in brevigenza a chi soffre. Sì, sì, a San Giuseppe e alle altre persone che sono bisognose, le do anche alle bisognose. Perché le sento del cuore e devo aiutare altre persone. Grazie a tutti.